Si parla sempre del fenomeno dei cinepanettoni, qualcuno ha notato che negli ultimi anni il periodo natalizio è diventato particolarmente affollato di titoli che cercano di competere per i soldi del biglietto, anche per questo alcuni comici italiani hanno cominciato a far uscire i loro film, spesso da cui ci si aspetta grandissimi incassi, quando la polvere si è posata, quando le feste stanno finendo, sono finite, all'inizio di gennaio. In questo periodo sono esplosi i successi recenti di Checco Zalone e di Alessandro Siani, che in genere si alternano per evitare di farsi concorrenza a vicenda. Quest'anno, accanto al successo dei film di Siani, è esploso, o almeno è cresciuto, oltre quello che ci si aspettava rispetto agli anni precedenti, il nuovo film di Ficare Picone, l'Ora Legale, che è ancora in sala. Il film che vediamo oggi è il primo film della coppia di comici siciliani, si intitola Nati Stanchi, ed è interessante vederlo oggi perché ci racconta già in nuce, scusate l'espressione, gran parte dei temi che loro poi sviluppano nel loro cinema successivo. È la storia di due, appunto, di due giovani siciliani che passano il tempo a fare concorsi per cercare lavoro, ma non è che ci tengono tanto a trovarlo questo lavoro, tanto che quando gli capita a un certo punto di vincerlo, cercano di fare ricorso per riuscire a non avere questo lavoro, perché poi dal lavoro dipende anche così il mantenimento di una promessa fatta alle loro fidanzate di sposarle, quindi tutta una serie di responsabilità che loro non sono molto disposti a caricarsi. Perché dicevo che in nuce ci sono già alcuni dei temi di Ficare Picone? Perché, e questo è vero soprattutto nell'Ora Legale, hanno questo modo di raccontare certi, così, certi vizi italiani, ovviamente spesso localizzati nella loro Sicilia, ma estendibili a tutto il nostro paese, in modo ironico, non particolarmente complice, ma neanche così accusatorio da mettere a disagio gli spettatori, che è un po' il meccanismo anche dell'umorismo di Checco Zalone. Una cosa che fin da questo primo film Ficare Picone ha non saputo fare è affiancarsi, loro sono anche autori della sceneggiatura, affiancarsi però dei signori sceneggiatori. Il film Nati Stanchi è scritto da Ficare Picone insieme a Gian Battista Avellino e a Francesco Bruni, poi diventato regista, lo sapete, collaboratore di Virzi, Scialla e via dicendo. Per cui, ecco, elementi di prima qualità che fanno un esordio di prima qualità, che ovviamente diventa la base del successo che oggi potete ammirare in sala. Nati Stanchi in prima serata.